Come spesso capita a chi inizia un'attività di governo, l'uomo che ha sostenuto la Meloni più di tutti gli altri si chiama Enrico Letta perché le ha fatto di tutto per farla vince. Adesso però la Presidente sulla benzina, sul MES, sull'immigrazione, sulle misure economiche, sui soldi regalati alla Serie A sta mostrando tutti i suoi limiti. Quindi non è che si è interrotta la luna di miele tra me e la Meloni che non c'è mai stata. Mi pare che si stia interrompendo la luna di miele tra la Meloni e gli italiani.